Qui sono tutti gli schizzi che il maestro Pizzi ha fatto, questo sarà la Otello, questo è il suo campione dell'abito, questo è Cassio, anche lui sempre in un sotto di pelle, nera sarà e sopra la pazienza. Questo è Iago, Idem, loro i campioncini, i vari colori. Lei invece è Desdemona, Desdemona ha fatto uno schizzo così, però non sarà poi questo lo schizzo. Questa è Desdemona e ha il caftano e lo jalabà uguali, questi sono tessuti particolari che il maestro aveva fatto fare lui per tappezzare un museo o qualcosa del genere. Ne sono rimasti e lui ha preferito scegliere, ha scelto per fare appunto quest'opera.